Trovo che queste cose di solito non riguardino mai il caffè. Forse voi due potreste discutere di cosa si tratta veramente? Ok, ok. Lui viene qua giù, giudica ogni minima cosa ed è ironico perché lui che ha fatto ogni minima cosa ci ha fatti tutti imperfetti e poi ci giudica di non essere all'altezza, quindi usa Photoshop per i tuoi selfie e preparati per il signor criticone. È una di quelle volte che dici una cosa e ne intendi un'altra perché di sicuro non l'ho inventato io. Se ti riferisci al sarcasmo non sono sicuro di essere abbastanza saccente da prendermene il merito. Per riguardo all'intelligenza credo che tu non sia d'accordo. Lo fa di nuovo. Ok, Dio, forse dovremmo iniziare con te. Di recente Lucifer ha commesso qualcosa che ti ha fatto arrabbiare. Ovviamente no. Non sono per niente arrabbiato. E allora tu mi hai sbattuto all'inferno tanto per giocare. Sii onesto. Eri arrabbiato perché ho minacciato il tuo status di supereroe e morivi dalla voglia di punirmi. Volevi che io soffrissi. Farlo felice è impossibile. Se esprimo la mia opinione, sto controllando. Se faccio un passo indietro e lo lascio decidere da solo, sono il padre distante con i modi misteriosi. Qualsiasi cosa faccia, per lui io ho sempre cattive intenzioni. Questo perché niente è mai abbastanza per ti. Perché non hai una scrivania? Perché la tua auto non ha il tetto? Perché nella tua cucina c'è solo scotch? Stavo solo cercando di interessarmi alla tua vita. Ha trasformato la scena del crimine in un video musicale. E credo proprio di aver percepito un certo baritono che cantava più forte. È tra baritono e tenore e non riesco a trattenermi se inizia la musica. Lo sai bene, è per questo che lo fai. Ok, time out. È per questo che lo fai. Time out. Ok, time out.